Buonasera, voglio dire, proprio focalizzarci sull'aspetto centrale, abbiamo uscito fuori questo nome Centro per Cardito perché il popolo è centrale in questa voglia di riscatto sul nostro territorio. Il Centro di Cardito, come diceva il Presidente del Consiglio, è una cosa importante, da dove di solito nascono quelle rivoluzioni culturali, sociali, per poter effettivamente concretizzare e volare alto. Con degli amici qualche tempo fa ci siamo guardati un attimino in faccia dicendomi che è possibile che il nostro paese non possa dire da decollare, visto che comunque è una posizione baricindrica nell'area tra Fragola, di Spano, Caivano, visto che abbiamo tante possibilità di poterlo far decollare. È nata la voglia all'improvviso così di dire, mettiamoci un attimo insieme, sediamoci, discutiamo di alcune cose. Il nostro impegno, specialmente con l'impegno del Presidente di Cardito, Centro Cardito, sarà un impegno che verrà profuso nel sociale, verrà profuso nello sport, verrà profuso nell'ambiente, perché tra di noi ci sono persone diciamo variegate che si occupano di diversi aspetti. C'è la voglia di poter far rinascere il nostro paese, far sognare un pochettino le generazioni future che hanno tanto bisogno di poter credere dove sono nati e effettivamente poter dire che la classe politica e la classe anche sociale ha fatto qualche cosa del nostro paese. Io non mi voglio dilucare molto perché effettivamente questa è una bella serata, c'è una partecipazione massiva di conoscere il Presidente. Penso che nelle varie riunioni che abbiamo fatto, altri incontri ci sia stato ben poco. Con questo volevo ringraziare tutti quanti, ringraziare il Presidente, ringraziare il Presidente del Consiglio e tanti amici che sono presenti. Grazie.